Va bene, buonasera a tutti, dedichiamo solo i primi minuti della lezione, prima di passare all'argomento successivo, a chiudere l'esercizio di ieri, che si è chiuso con un crash del programma, cosa che non è bella, e quindi vediamo di risolverla, già risolta in realtà nella versione che avete online, però a mente un pochino più fredda ricordiamoci che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sfruttato un algoritmo di visita, in questo caso la visita è in ampiezza, ma se facessi una visita in profondità non cambierebbe nulla, cambia semplicemente la classe, quindi l'ordine con cui vengono visitati i vertici, abbiamo usato un algoritmo di visita per la ricostruzione dell'albero di visita, perché l'algoritmo di visita di per sé mi istituisce semplicemente l'insieme dei vertici visitati, trovati, ma non mi dà più indicazioni su come li ha trovati. Allora noi siamo andati a ficcare il naso dentro l'algoritmo di visita e ci siamo costruiti una struttura dati sotto forma di mappa che in qualche modo fosse in grado di rappresentare l'albero di visita, identificando per ogni vertice, che fa parte dei vertici visitati, degli altri non mi interessa, ma per ogni vertice visitato identifico qual è il vertice precedente, quello da cui sono partito per scoprire questo. Adesso perché ho fatto questa scelta a ritroso? Dal vertice visitato la freccia all'indietro e quindi le frecce, io me le immagino come frecce questa mappa che associa un vertice con un altro vertice, vanno all'indietro, vanno dal basso verso l'alto e non invece nella direzione della visita, vanno nella direzione inversa rispetto alla visita, la visita parte dalla sorgente e vado avanti e invece nell'albero che ho costruito parte da un nodo e torna indietro dalla sua sorgente. Per il semplice motivo che se io prendo un nodo, un vertice, lui può avere più nodi diversi, nuovi scoperti, ne ho più di uno. Quindi dato un nodo dovrei avere una lista di nodi nuovi, di archi uscenti, mentre invece dato un nodo di predecessore, di nodo da cui è stato scoperto ce n'è uno solo e quindi dal punto di vista della rappresentazione dei dati è più semplice perché basta dato un nodo trovare l'unico singolo genitore, nodo di provenienza, mentre invece quando vado in avanti posso averne più di uno. È un po', se ci ricordiamo le figure che avevamo nelle slide quando facevamo le visite, eccola qua, questo è un esempio di un albero di visita, di questo grafo in ampiezza, partendo da S, questa mappa che abbiamo costruito rappresenta questi archi in rosso, cioè gli archi componenti la visita e sul vertice T mi registro che T è stato scoperto da W, sul vertice W mi registro che W è stato scoperto partendo da S. Quindi immaginiamo questi archi che abbiamo creato come avendo una direzione, una freccia che è la direzione in cui viene consultata la mappa, dal nodo scoperto da U verso T, map di U mi restituisce come valore T, mappa punto get di T mi restituisce come valore W, mappa punto get di W mi restituisce come valore S, mappa punto get di S non mi restituisce niente perché S è il nodo di partenza quindi non ha un predecessore. Questo è il modo più semplice di rappresentare come struttura dati un albero. Se invece avessi voluto rappresentare l'arco andante, cioè in uscita dalla risorgente verso la periferia, sarebbe stato più complicato perché ad esempio il nodo W ha due nodi successori nell'albero di visita, quindi W permette di scoprire sia T che X e quindi non sarebbe stata sufficiente una mappa country country, ma una struttura dati un pochino più complessa da country a lista di country, però le cose sono già abbastanza complicate così e non andiamo, potendo scegliere la rappresentazione, scegliamo quella più comoda. Quindi questa struttura dati che abbiamo imbastito insieme la volta scorsa, questa mappa che lega una country scoperta da una country di provenienza, in qualche modo registra gli archi che hanno fatto parte del percorso di visita. Abbiamo messo dentro forzosamente il vertice di partenza, perché il vertice di partenza non viene scoperto durante la visita, ma deve essere già dentro prima e poi via via andremo durante la visita a scoprire i vertici successivi. Questo è l'argomento di visita vero e proprio in cui succede tutto, noi non vediamo codice qua, perché il codice non è richiamato esplicitamente da noi, ma viene richiamato indirettamente dall'iteratore di visita grazie al listener che abbiamo impostato. Quindi questa classe listener, che ovviamente si ricorda, perché gli serve internamente, qual è il mappa nella quale deve registrare le informazioni, ad ogni arco attraversato, aggiunge nella mappa le informazioni relative all'arco che è stato attraversato. C1 e C2 sono i due vertici, le due country estreme dell'arco. Come dicevamo la volta scorsa, qui ho bisogno di un if, perché io non so a priori se l'arco che mi viene restituito è da C1 a C2, da C2 a C1, se il grafo fosse un grafo orientato non avrei problemi, grafo diretto, visto che un grafo non diretto, gli archi, voi quando aggiungete l'arco da A a B e poi provate ad aggiungere un secondo arco da B a A, non ve lo aggiunge perché diceva lo stesso di prima. Quindi anche quando andate a trovare gli archi che sono adiacenti ad A, a volte trovate A B, a volte trovate C A, perché tanto siamo noi che dobbiamo leggerli nei due versi. Quindi qui ho fatto l'esercizio di andare a leggere nei due versi, dicendo, poiché sto trattando un arco che scopre un nuovo nodo, dei due estremi C1 e C2, uno dei due l'ho già visto e l'altro non l'avrò ancora visto. Quindi vado a chiedermi, se C1 è quello che non ho ancora visto, allora lui è il figlio e C2 è il padre. Se invece C1 l'ho già visto, per esclusione sarà C2 che non ho visto, e allora C2 sarà il figlio, il nodo sotto e C1 sarà il padre. Fin qui tutto giusto. La cosa che mancava, che mandava in lupo il programma negli ultimi 5 minuti della lezione di ieri, era il fatto che non avevo pensato che l'algoritmo di visita a volte può attraversare un arco più di una volta, sicuramente la parola adesso per andare avanti e poi per tornare indietro, internamente, roba sua. Per cui capita delle volte che venga chiamato il metodo edge traversed con un arco che collega due nodi che in realtà conosco già. Oppure anche più banalmente, quando viene chiamato sull'arco tra T e X, lui deve attraversare l'arco per vedere chi c'è dall'altra parte, questo arco tra T e X non mi dà nuova informazione, perché T l'ho già scoperto da W, X l'ho già scoperto da W. Quindi capitano dei casi in cui la listener viene richiamato con una coppia di vertici, entrambi i quali sono già stati visti in precedenza, soprattutto sugli architraversi di questo tipo. E allora io avevo dimenticato e quando ho capito che il problema era quello ho aggiunto semplicemente questo test, se per caso sia C1 sia C2 sono già contenuti nella mappa non devi far nulla perché vuol dire che non devo aggiungere nessun arco, quell'arco lì è un arco che non mi genera nuovi vertici sconosciuti, cosa che non avevo fatto e quindi di fatto andavo a sovrascrivere una, immaginavo che il problema fosse XT, andavo a sovrascrivere ad esempio la mappa di X e dicevo che X proveniva da T anziché proveniva da W, ad esempio. E quindi in questo modo creavo un ciclo all'interno della mia mappa e per cui il programma si piantava perché a un certo punto quando ricostruvo il cammino continuava a rimbalzare avanti e indietro all'infinito tra due vertici perché non era più vero che l'arco si avvicinava sempre di più sulla radice perché attraversava un arco laterale e non diretto. Quindi il baco di ieri era questo, questa liga qua mancava. Dopodiché noi avevamo nascosto il calcolo dell'arbero di visita all'interno della procedura get raggiungibili, che era quella che mi calcolava l'insieme, semplicemente la lista delle counti raggiungibili. Perché? Perché già che faccio una visita mi salvo questa informazione perché mi può servire un attimo dopo, ma sul bottone trova le stati raggiungibili questa informazione qua non veniva utilizzata, non serviva. E quindi semplicemente la salvavo all'interno del modello dicendo mi servirà poi dopo. L'ho calcolata adesso perché non mi costava niente calcolarla mentre stavo facendo una visita, ma so che eventualmente mi serve dopo. E servire dopo è nel metodo che abbiamo fatto all'ultimo momento, l'ultimo che mi ha scritto, il metodo get percorso, che è in grado di ricostruire il percorso per arrivare a una determinata destinazione. Quindi proviamo a rivederlo in funzione, quando ci rinfreschiamo la memoria, noi avevamo detto possiamo scegliere uno stato di partenza, sono gli Stati Uniti, cerca stati raggiungibili e medi da tutti, questo ci abbiamo già ragionato e discorso parecchio e qui c'è l'elenco degli stati raggiungibili. Se ne scelgo uno, Cile, io so già che avendo dentro l'implementazione del metodo cerchi raggiungibili ho già costruito l'albero di visita, quindi ho già la mappa che mi dice lo stato Cile da dove è stato trovato, qual è lo stato precedente, per arrivare in Cile da dove sono passato? Non so quale sia, adesso lo vediamo e per arrivare in quello stato da dove sono passato a sua volta e così via, fino a quando non riesco a trovare lo stato di partenza. Allora per ricostruire questo percorso non devo far altro che prendere la mappa, interrogare la mappa chiedendogli senti chi è, dato lo stato di partenza, anzi di arrivo, di destinazione è il Cile, qual è lo stato precedente? Quindi ho uno stato di destinazione e interrogo la mappa chiedendogli qual è il precedente nell'albero di visita rispetto a questo stato di destinazione, vedete che questa C è inizializzata con lo stato di destinazione e lui mi dà lo stato precedente al Cile, se confina con il Messico potrebbe essere il Messico, no c'è un'alberica centrale di mezzo, cosa dico? Ci sarà il Peru, dipende che giro fa l'albero di visita, non lo so. Dopodiché una volta che ho trovato questo stato, a sua volta devo chiedermi di nuovo qual è lo stato da cui provengo e quindi sto iterando, interrogando ripetutamente la mappa, perché ogni volta che interrogo la mappa mi fa salire di un gradino, vedete che C è uguale albero di visita di C, sostituisco C lo stato con albero di visita di C che è il suo precedente e che a sua volta diventa il nuovo C e quindi torno su ancora di 1 e così via, fino a quando non trovo lo stato di partenza che per come abbiamo costruito noi la mappa contiene un null. Quindi questo metodo mi restituisce una lista al contrario, una lista in cui ho l'ordine degli stati non tanto per il viaggio di andata, ma come se fosse il viaggio di ritorno. Se volessi la lista giusta basterà che anziché fare un add normale che aggiunge in coda, potrei fare un add all'inizio, quindi aggiungere ogni volta il nuovo elemento all'inizio della lista anziché in coda, ma è un dettaglio. Oppure quando ho finito la lista la rovescio, oppure quando la stampo, la stampo usando l'interatore all'indietro anziché quello in avanti, insomma se vogliamo sono dettagli estetici. E quindi questo cerca percorso, richiama questo metodo che calcola questa lista dicendo che per arrivare in Cile sono passato dal Peru, il Peru sono passato da Colombia, il quale da Panama, lo sto risalendo tutto sulla parte di America Centrale, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Messico, Stati Uniti d'America, ovviamente qua si sono fermato. Se io modificassi lo stato d'arrivo e decidessi, non so, l'Argentina, lui ricalcola il percorso andando a interrogare la stessa mappa, la mappa non cambia, l'albero di visita non cambia, perché l'albero di visita dipende solamente dallo stato di partenza. E quindi interrogo di nuovo, ormai praticamente quella mappa sta codificando, riassumendo, riassunti, compattati tutti i percorsi possibili, partendo dagli Stati Uniti e arrivando a tutti gli altri Stati. Sono tutti lì condensati in questa mappa, a seconda del nodo di cui parto, risalgo su e trovo il percorso. E quindi ovviamente con l'Argentina ci sarà un percorso un pochino più lungo da fare, mentre invece se vado, che ne so, in Canada il percorso sarà più breve e così via. E questo vale anche per gli altri Stati. Se scelgo un altro Stato di partenza, cerco i Stati raggiungibili, che ho messo qualche a capo anche nelle stampe così, ovviamente ne avrò molti di più e dal Gabon all'Austria si arriva con un percorso che è parecchio lungo, infatti va a capo qua, Austria, Jugoslavia, Turchia, Egitto, Sudan etc. e va avanti. Quindi ogni qualvolta abbiamo bisogno di memorizzare l'albero di visita, dobbiamo fare questo giro un po' contorto, ci creiamo una mappa, potremmo anche creare un grafo, non necessariamente solo una mappa, perché di fatto l'albero di visita è un albero, l'albero non è altro che un tipo di grafo, quindi io qui per economia ho semplicemente creato una mappa, dove è andata? Ma volendo avrei potuto creare un altro grafo che chi chiamo, non so, grafo di visita, in cui ci metto dentro tutti gli archi del grafo di partenza e aggiungo un arco, un edge veramente nel grafo, anziché aggiungere una mappa, è un altro modo di rappresentare una struttura dativa di questo genere, quindi l'oggetto graph usatelo quando avete bisogno di rappresentare informazioni di questo tipo, in questo caso mi sembrava più veloce, diretto usare la mappa. Questi ragionamenti su questo albero, questa mappa, teniamoli presenti perché adesso ci serviranno di nuovo su un problema un pochino più complicato rispetto a quello della visita, che è il problema dei cammini minimi, che da qualche parte ho aperto qua, nelle slide, ecco qua, e di cui parliamo oggi. Allora, attraverso la procedura di visita, innanzitutto qual è la complessità del proceduro di visita? È una complessità lineare, perché o di n, o di numero di vertici, perché ogni vertice viene toccato, scoperto una sola volta, quindi tutti i tipi di visita hanno una complessità che è pari al massimo al numero di vertici che devo trovare e il numero di vertici che devo trovare sarà pari al massimo al numero di vertici che ci sono nel grafo. Dopodiché quando compio una visita in un grafo non orientato come questo, parto da un vertice e raggiungo tutti i vertici della stessa componente connessa del grafo. Se io parto, abbiamo visto che c'è un cammino tra l'Italia e Sudafrica e la Cina, vuol dire che tutti questi stati fanno parte di un'unica componente connessa, c'è un unico insieme di vertici, prendendo una coppia qualunque dei quali esiste un cammino tra i due. Mentre invece non esiste nessun arco che leghi un qualunque Stato europeo con un qualunque Stato americano, del continente americano. E quindi il continente americano, nord, centrale e sud è un'altra componente connessa del grafo. Quindi questo grafo, non è un grafo quello delle nazioni, non è un grafo connesso, non è possibile passare da un qualunque Stato a un qualunque altro Stato, da un qualunque vertice a un qualunque altro vertice, seguendo gli arti del grafo, ma è fatto di più componenti connesse e separate, che corrispondono grossomodo ai continenti, anche se non c'è distinzione tra Europa e Asia, Europa, Africa e Asia perché ci sono, se aggiungeste anche la vicinanza via mare di mi sembra 50 miglia, collegate anche l'America perché lo Stato di Bering collega l'Asia, la Russia con l'Alaska e da lì si arriva tutto, rimane fuori solo l'Australia. Questo però ci dà dei cammini, esistono dei cammini, non ci dice nulla sulla qualità di questi cammini, sono corti, sono lunghi, sono i più corti in assoluto che si possono essere. Nel caso di una visita in ampiezza in un grafo non pesato, i cammini che troviamo sono effettivamente dei cammini minimi, perché per come procede la visita in ampiezza, abbiamo visto per livelli, non aggiunge mai un terzo passaggio finché non ha finito di trovare, non aggiunge mai un nodo a distanza 3 finché non ha trovato tutti quelli a distanza 2, quindi il numero di passi, di archi che attraverso è sempre minimo, però questo è nell'ipotesi in cui gli archi pesino tutti uguali, ma visto che le distanze tra stati non sono tutte uguali, il fatto di avere il numero minimo di attraversamenti di frontiera non mi dà la distanza minimo, il percorso minimo o migliore. Quindi la domanda che sorge come passo successivo è, ma dato un grafo e sapendo che voglio andare da un vertice S o un vertice V, qual è il percorso migliore, qual è il percorso più breve e nel caso in cui il grafo è pesato il concetto di più breve non corrisponde con il numero di archi, ma corrisponde con i pesi degli archi, quindi qual è il percorso per andare da S a V che ha peso minore, costo minore, lunghezza minore. Ovviamente questa figura è più complicata, perché qui siamo di fronte a un grafo pesato e orientato, che è il caso generale, se sappiamo risolvere questo sappiamo risolvere anche il caso del grafo non pesato e anche il caso del grafo non orientato. Qui ci mettiamo nel caso generale e vediamo come si può risolvere il problema. Allora diamo un po' di definizioni prima per formalizzarlo un po' meglio. Un cammino, l'avevamo già definito, è una sequenza di vertici, ciascun arco, anzi una sequenza di archi che collegano dei vertici, ciascun arco del cammino, P come path, ha un peso se il grafo è pesato, nel caso in cui il grafo non sia pesato questi pesi, questa funzione di peso W vale 1 per tutti, 1, 1, 1, 1, altrimenti hanno un peso individuale. Definiamo in modo abbastanza ovvio il peso del cammino, the weight del path, come somma dei pesi degli archi che sono compresi nel cammino. In un grafo semplice basta conoscere i vertici che compongono il cammino, perché tra ogni coppia di vertici ci sarà un arco solo. Nel caso di un multigrafo le cose si complicano perché devo distinguere tra quale arco uso se ce ne sono 3, ma non ci poniamo ancora in questo caso. Quindi noi sappiamo cosa è un cammino, c'è un insieme di archi consecutivo o un insieme di vertici, una lista di vertici tra ciascuna coppia dei quali esiste un arco e possiamo attribuire un numero reale che è un peso a questo cammino. Naturalmente il cammino minimo, il cammino più breve tra due vertici è il cammino che ha peso minimo tra U e V, ammesso che tale cammino esista, che quindi V sia raggiungibile da U e che sia il cammino che ha la lunghezza, il peso minimo tra tutti cammini esistenti, la frase si è complicata purtroppo, ho due vertici, mi chiedo sono connessi o no? È possibile arrivare da U a V oppure no? Se non è possibile arrivare a V da U, definisco che questa distanza, la lunghezza del cammino minimo sia infinita, non è raggiungibile. Se invece è raggiungibile può darsi che ci siano tanti cammini diversi, con un numero di archi diverso, ci sono tanti modi di arrivare da U a V, alla mente nel concetto di visita mi interessava trovare un modo per arrivare fino a V, per sapere se V è raggiungibile sì o no, una volta che ho trovato un modo ho dimostrato che è raggiungibile fine, non ho bisogno di sapere altro, qua visto che voglio trovare il modo migliore di raggiungerlo, devo andare a considerare implicitamente o esplicitamente tutti i possibili modi in cui partendo da U possono raggiungere V, per ciascuno di questi tanti modi, tanti percorsi diversi, più o meno contorti, calcolo il peso di quel percorso, uno di questi percorsi avrà il peso minimo, sono numeri e qui a un certo punto ci sarà il min, il percorso che corrisponde al peso minimo lo chiamiamo cammino minimo, quindi già ci balena un pochino il terrore di dover numerare tutti i possibili cammini, ci comincia a sparare un po' di ricorsione in testa che dice come faccio a generarli tutti, per fortuna il problema è più addomesticabile, però dobbiamo studiare un po' meglio per capire come si addomestica, per addomesticarlo dobbiamo un attimo capire qual è l'obiettivo, proprio anche a livello algoritmico, possono essersi dei casi in cui voglio trovare il cammino minimo tra due vertici, solo quei due, del resto del grafo non me ne frega niente, oppure possono essersi dei casi in cui mi interessa trovare tutti i cammini minimi dato un certo vertice di partenza, ma calcolandoli per tutti i punti di destinazione, che è il problema che viene detto single source, short spot, tutti i cammini minimi che partono da una singola sorgente, ma calcolandoli per tutte le destinazioni del grafo. Non esiste il problema, qui non è elencato il primo problema che ho detto, dato una sorgente e una destinazione troviamo il cammino tra quei due, perché in realtà non esiste nessun algoritmo che sia in grado di lavorare tra due vertici, già conoscendo destinazione, che allo stesso costo non mi calcoli anche tutti i percorsi, trovare il cammino minimo da un vertice a una destinazione ha la stessa complessità che trovare il cammino minimo da un vertice a tutte le destinazioni, perché? Ma perché finché non ho visto tutte le destinazioni non so se il cammino che ho trovato è quello veramente ottimo e quindi in realtà per dimostrare che questo è l'ottimo devo aver dimostrato che in tutti, passando da qualunque altro vertice non faccio una strada più corta, quindi alla fine farlo solo tra due o farlo da uno a tutti è lo stesso algoritmo, non c'è differenza. C'è invece differenza se uno volesse fare il grandioso e dire ma no, già che faccio girare un algoritmo, faccio girare un algoritmo che alla fine mi calcoli tutti i cammini minimi tra tutte le coppie di stati, cioè girerà quel che deve girare ma poi alla fine ho una struttura dati che istantaneamente se gli do due vertici mi tira fuori il cammino, un po' come facevamo là per l'alberello, per la mappa, una volta che l'ho calcolato, vabbè lì in quel caso la sorgente era fissa, ma a qualunque destinazione scegliessi avevo già la risposta pronta, non dovevo fare nessun calcolo. Quindi sono algoritmi ovviamente di complessità diversa che risolvono queste due varianti del problema, single source oppure all pairs, sorgente unico o tutte le coppie possibili. E cosa deve trovare l'algoritmo? Come spesso si trova in matematica, l'algoritmo del cammino minimo di solito, se vai a vedere la definizione matematica, è un algoritmo che ti calcola la lunghezza del cammino minimo. Si dice la minima distanza in km tra questi due stati è 3200 km e ti dico che è il minimo. Grazie, è solo metà della risposta, perché poi probabilmente vorrei anche sapere qual è il percorso da fare, qual è il percorso che effettivamente ha quei 3200 km di lunghezza. E quindi una seconda domanda che l'algoritmo vorrei che tirasse fuori, a cui l'algoritmo vorrei che rispondesse, è darmi un esempio di almeno un cammino che abbia esattamente quella lunghezza, quella minima. Perché sapere che esiste un cammino di quella lunghezza senza sapere qual è, a volte no, è un po' limitativo nelle applicazioni pratiche. Dal punto di vista teorico il problema non è risolto, dal punto di vista pratico è meglio anche sapere la soluzione e non solamente sapere che esiste. Quindi vorremmo algoritmi che ci tirano fuori non solamente la lunghezza, ma anche l'effettivo cammino. Quindi come potremmo procedere? Concentriamoci su questo grafo qua, che era quello dell'esempio di prima. A occhio tu dici ma c'è un cammino evidente tra S e V che è S e V. S e V è un cammino, perché è un insieme di tre vertici, è un cammino di lunghezza 2, due archi e tre vertici, di peso 9. Esistono cammini più brevi? Ma ne vedo uno, SU, UX, XV. Perché qui ho peso 3 più 1 più 4, che fa solo 8. Quindi è un cammino più lungo, di lunghezza maggiore, perché ha un arco in più, ma meno pesante, ma di peso minore. Attenzione che la lunghezza di un cammino è il numero di vertici che incontro, il peso del cammino è invece dato dalla somma dei pesi. Poi 8 sarà il minimo? Non lo so. Ci sono alcune cose che non ha senso fare, ad esempio se io faccio 3 più 1, sono a 4, questo arco che vale 6, dovunque porti non mi interessa, perché io ho già fatto la distanza pari a 4, se questo vale 6 mi porterebbe a 10, ma io conosco già una soluzione di 8 per arrivare a V. Quindi sono certi archi che a questo punto non mi serve guardare. Così non mi serve normalmente tornare indietro. 3, 1, ha senso tornare su? No, perché sono il punto di partenza, ma nel frattempo ho fatto 1 più 2, 3 km di percorso in più, che avrei potuto non fare. Quindi ci sono un po' di regole che in qualche modo limitano i percorsi che possiamo esplorare. Però prima di dire che matematicamente il minimo è 8, allora questi algoritmi in qualche modo devono riuscire a considerare, a valutare contemporaneamente molti cammini. Quello migliore è, abbiamo detto, SUXV, perché è meglio di SUIV e sappiamo che SUXU non ci interessa e così via. Quindi l'algoritmo per poter ragionare deve mantenere in memoria contemporaneamente più cammini, possibilmente in una forma che sia semplice da elaborare. Ecco, guarda caso, la forma che è semplice da elaborare è esattamente quella che già abbiamo costruito, una mappa. L'algoritmo dovrà tenere presente per ciascun vertice il vertice precedente, chi lo chiama pi greco di V, il precedente di V e qui sotto l'ho chiamato V e punto precedente, la stessa cosa, secondo che usiamo il codice o usiamo la notazione matematica. Il vertice precedente da cui devo passare se voglio arrivare su V facendo il cammino minimo. E magari mi serve anche una funzione peso che mi dice in anticipo, per andare da U a V che sono lontani qual è la lunghezza del cammino minimo, però questa ci interessa meno alla fine, già possiamo ricalcolare. Quindi se io avessi questa funzione, che è esattamente la mappa di prima, questa mi codifica per ogni vertice mi dà il precedente, l'informazione per ogni vertice qual è il precedente mi codifica l'insieme di tutti i cammini minimi, non di tutti i cammini possibili, di quelli che ho deciso che siano quelli minimi. Se voglio arrivare al vertice T col cammino minimo, da dove devo passare? Ci sono 6 archi entranti in T, da quale devo arrivare? E me lo dice questa funzione. Quindi il punto d'arrivo dell'algoritmo è costruire questa funzione, non sarà semplice come con la visita in ampiezza, perché non mi basta accontentarmi di un vertice la prima volta che lo vedo, devo provare a vederlo arrivandoci da strade diverse. Quindi questo è il risultato che ci attendiamo da un algoritmo su questo grafo, che mi dice che S è la sorgente, quindi non ha nessun vertice precedente e mi dice che il modo migliore per arrivare a U partendo da S è arrivare direttamente da S, cioè il cammino minimo che raggiunge U partendo da S è proprio SU, cioè da S a U diretto, che non è scontato, tu dici sì è subito collegato, è vicino, no non è detto che sia vicino, perché magari c'è un cammino S, Z, Z, U che hanno entrambi peso 1 e quindi per arrivare a U non conviene arrivare da S ma conviene arrivare da Z, converrebbe. Poi per arrivare a X qual è il modo migliore? È arrivare da U, quindi qui mi dice che se voglio arrivare a X devo passare da U e ovviamente passando da U precedentemente devo essere passato da S, quindi il cammino minimo per X è SUX, per V conviene, a V posso arrivarci da U, da X o da Y, lui mi dice che a V conviene arrivarci da X e poi come ci arrivo in X? Beh l'ho appena detto, arrivo passando da U e come ci arrivo in U? Passando da S, che è il punto di partenza. Quindi una struttura di dati così compatta sono riassunti tutti i cammini possibili, dato il versetto di arrivo mi dice un passo alla volta qual è il passo precedente e poi da lì posso risalire e volendo posso anche tenere traccia di qual è la distanza per arrivare minimo per arrivare a U, per arrivare a X per arrivare a V, per arrivare a Y. Questo è l'output dell'algoritmo, questo però l'ho fatto a mano con tanta fatica, bisogna poi trovare un algoritmo che arrivi a calcolare lui questo. E effettivamente quello che ci chiedevamo, la strada migliore per arrivare a V è effettivamente lunga 8 e è effettivamente quella che passa da U, da X scusate, quindi S, U, X, V, quello che avevamo visto a occhio prima, però finché sono 5 vertici a occhio si vede. Allora uno potrebbe chiedersi, io almeno la prima volta che ho visto queste cose sono rimasto un po' dubbioso perché ho detto ma scusa non ho capito, arrivare a V devo passare da Y, scusate arrivare a Y devo passare da V, V è un punto intermedio ad esempio, allora però questa tabella mi sta dando suggerimenti su come arrivare a V come punto di destinazione ma anche come arrivare passando da V se la mia destinazione è un'altra, uso la stessa tabella, c'è il nodo precedente a V che mi dice è X, ma non mi dice è X se devi fermarti lì oppure è un altro se devi arrivare fino a Y? È un po' strano, c'è che una tappa intermedia non dipenda dalla destinazione, qual è il punto intermedio migliore non dipende dalla destinazione, che è strano, è strano in generale, non è strano solo se pensiamo che questi sono i passaggi che già rappresentano i cammini minimi e quindi ho già deciso che per arrivare a Y devo passare da V, ho già escluso che convenga passare da un'altra parte, allora se so una strada ottima di cammino minimo per arrivare a V e fermarmi lì a dormire, ecco se poi qualcuno mi dice che il cammino minimo per arrivare a Y deve passare da V, allora per arrivare fino a V è ovvio che uso la strada minima che avrei usato per arrivare a V e fermarmi lì, solo che a monte ho già l'informazione che devo passare da V, perché i cammini minimi li ho già calcolati, allora questo si riassume da questo teoremino, dice che in un nodo intermedio di un cammino minimo, quindi se questo nodo intermedio appartiene al cammino minimo, non vale in generale, qual è solo dopo che ho finito di calcolare la soluzione, se il nodo intermedio appartiene al cammino minimo, allora il vertice precedente di un nodo intermedio non dipende dal nodo di destinazione finale, dimmi, dal nodo sorgente sempre, certo, stiamo pensando dei casi in cui il nodo sorgente o è fisso oppure sono tutti, quindi li devo considerare tutti contemporaneamente. Quindi questo vuol dire che come conseguenza la funzione pi greco, la nostra mappa può essere univoca, quindi per quello che mi basta, io inizialmente avrei pensato ingenuamente ma mi serve una mappa per il cammino minimo fino a Y, una per il cammino minimo fino a W, una per il cammino minimo fino a V e invece mi accorgo che sono uguali e allora basta collassarle in una sola, quindi il valore del vertice precedente può essere scelto in modo univoco. Ok, poi c'è la dimostrazione cinema, non ci interessa. Allora, questa quindi è la rappresentazione che vale solo se i cammini sono minimi, ok? Ma noi l'approssimiamo, la costruiamo, gli algoritmi di questo genere sono algoritmi abbastanza costruttivi, cioè via via vanno a riempire le righe di quella tabella e se trovano che l'ipotesi che avevo fatto finora non era l'ottima, la vanno a sostituire, la vanno a aggiornare. Allora, volendo quella che ho chiamato mappa, quella che ho chiamato funzione predecessore, altro non è che un grafo, rappresenta un grafo, rappresenta il sottografo dei cammini minimi, immaginate avere un grafo complicato, non so se ho il disegno, qui, questo sottografo, un sotto insieme degli archi del grafo di partenza è il grafo dei cammini minimi, lo chiamo grafo in generale non albero perché potrebbe non essere connesso, quindi un albero invece connesso e riassume tutti e soli gli archi che mi serve usare se voglio muovermi con i cammini minimi, gli altri archi non mi servono, mi fanno fare dei percorsi inutili, inutilmente lunghi, per quello che i navigatori riescono a rispondere in fretta, perché con un po' di preelaborazione di tutte le strade che ci sono, molte decidono già, sanno già che non servono e quindi si possono salvare solamente quelle che hanno un percorso minimo, poi è molto più complicato. Quindi questo grafo è univoco e tendenzialmente ha la forma di un albero o di una foresta, in teoria questo grafo qua non è unico, potrebbero esserci modi diversi se avessi percorsi alternativi di uguale peso, però a quel punto non è unico matematicamente, ma ce ne possono essere due che mi danno esattamente le stesse lunghezze, quindi sono equivalenti da quel punto di vista. Quindi questa tabellina qua riassume questo grafo, caso particolare se il grafo è un grafo non orientato e non pesato, questo albero dei cammini minimi coincide con l'albero di visita in ampiezza, che è quello che abbiamo calcolato prima, quindi lo sappiamo già calcolare, ma in tutti gli altri casi se il grafo è orientato o se il grafo è pesato non mi basta con l'algoritmo, quello mi dà un albero di visita che non mi garantisce l'essere minimo, la minimalità, scusate, non mi viene la parola, del risultato. Un ultimo warning prima di vedere l'algoritmo è attenzione ai pesi negativi, cosa capita o meglio è possibile pensare che esistono dei pesi negativi all'interno del grafo? Cosa vuol dire un peso negativo di un arco? È un peso per cui se tu attraversi quell'arco anziché dover pagare ottieni un bonus, se tu calcoli che questi pesi potrebbero essere la benzina che spendi andando in giro attraversando una strada, se fai quella strada hai un premio per cui ti fanno il pieno, quindi tu ci guadagni a passare di lì, quindi in qualche modo dal punto di vista del costo non lo annunghi ma lo accorci, lo diminuisci perché ti viene restituito qualcosa. Allora in generale la maggior parte degli algoritmi che lavorano sui cammini minimi non hanno grossi problemi a gestire dei pesi negativi come questo, perché qui c'è un percorso tra S e G che ha peso 3, meno 4 più 4 ha peso totale 3, qui c'è un altro cammino tra S e G che ha peso 5 più 6 più 8, 5 6 11 più 8 19, questo arco negativo non serve a niente, non mi conviene attraverso, se lo dice sì ma ci guadagni, sì ho capito ma ci guadagno 3 ma poi devo perdere 6 per tornare in avanti per cui devo arrivare prima o poi alla destinazione. I problemi nascono nel momento in cui c'è un ciclo, un ciclo chiuso quindi, la cui somma degli archi sia negativa. Allora immaginate di arrivere qua, spendo 2, poi per andare avanti devo spendere a 3 e sono a 5, 5 più 7 12 sono arrivato a G, però 12, se io sono a 5 passo di qua mi restituiscono 6, quindi arrivo a meno 1, poi pago 3 più 3 sono a più 2, 2 più 7 sono a 9, ma mi è convenuto. Però lo posso rifare una seconda volta, se qui sono a 2 faccio meno 6 meno 8 più 3 meno 5, meno 5 più 7 arrivo alla destinazione con peso meno 5 più 7 più 2 solamente, ma posso ancora andare avanti, fare un terzo, un quarto giro, cioè ogni volta che faccio questo giro F e poi torno in F guadagno 3. Quindi qual è il numero di giri che devo fare per avere il cammino minimo? Infinito. E qual è la lunghezza di questo cammino minimo meno infinito? Non è una soluzione tanto piacevole, fisicamente non ci dice molto. Quindi in tutti i casi in cui nel grafo esistono degli archi singoli negativi, alcuni algoritmi li sanno trattare, altri no, ci sarà scritto guarda che questo algoritmo non funziona se nel grafo c'è un arco negativo, ma di per sé non sono problemi concettuali, magari è solo l'algoritmo che non sa gestire. Quando invece ci sono dei cicli completi in cui la somma del circuito chiuso sia negativa, allora non è possibile definire il cammino minimo. E diciamo che convenzionalmente in questo caso questo cammino minimo vale meno infinito, ma mi invalida tutto, anche quel percorso che c'era all'inizio, 3 meno 4 più 4 che sembrava quello carino, quello interessante, in realtà non è lui il più furbo, perché il più furbo è passare di qua, fare infiniti giri e poi andare in là, che vuol dire che non c'è un cammino, non esiste un cammino finito di peso minimo e quindi non si può risolvere. Un altro ancora passaggio teorico, che poi è quello che ci aiuta, è l'estensione, se vogliamo del concetto di prima sull'unicità del predecessore. Questo teoremino dice, supponiamo di aver già trovato il cammino minimo, quindi che P sia un cammino da V1 a VK e sia già il cammino minimo. Di questo cammino minimo scegliamo un pezzettino, un segmento, quindi da V con I a V con J, dove I è maggiore di 1 e J è minore di K, quindi minore uguale, uno qualunque pezzettino. Allora, io ho un cammino minimo, so che è minimo, ne prendo un frammento, ecco il teorema mi dice che il frammento che ho preso, il frammento di cammino tra V1 e VK, mi dà un cammino tra V con I e V con J, perché ho scelto due punti, c'è un cammino tra questi due punti. Il teorema mi dice, questo cammino è un cammino minimo tra I e J, non devi cercare un altro, se io conosco due punti che sono su un cammino minimo, allora il frammento di cammino che li congiunge, che fa parte di un cammino più grande, è anche un cammino minimo per loro. Quindi questa forza di cammini minimi è in qualche modo conservativa. Non solo mi dice che l'ultimo passo è univoco, mi dice anche che qualunque tratto intermedio, se fa parte di un cammino minimo più grande, si può usare come cammino minimo più piccolo e quindi non dipende né da chi sia V con I, né da chi sia V con K, ma dipende solo dal fatto che quella sequenza di nodi faceva parte di almeno un cammino minimo per qualche nodo più grande. Quindi questo in qualche modo ci conforta perché ci permette di ragionare a livello locale, il mio algoritmo non avrà bisogno di considerare effettivamente tanti cammini nella loro totalità, ma dovrà semplicemente assemblare tra di loro frammentini minimi di cammino e poi questi si concatenano se sono minimi. Allora in particolare proviamo a applicare il teoremino di prima all'ultimo passo. Quindi abbiamo un cammino tra, in questo caso ho cambiato i nomi, vabbè pazienza, tra S e V e consideriamo il vertice U che sia il penultimo vertice del cammino. Quindi cammino fatto di tanti vertici, inizia con S, poi tanta roba in mezzo, poi alla fine finisce con U, V e V è il punto d'arrivo. Qui vale il teorema di prima, quindi io posso decomporre il cammino di prima che da S a V so essere un cammino minimo, in due sottocammini, quello che va da S a U e quello che va da U a V, che è un arco solo. E quindi mi dice che applicando quel teorema mi dice che sia il cammino che ho trovato tra S e U sia l'ultimo arco sono entrambi dei cammini minimi tra i vertici relativi. E quindi se sono minimi, la distanza minima tra S e V, quella totale, altro non è se non la somma, la distanza tra S e U e la distanza tra U e V. Se ho la strada più furba per andare da U a V e la strada più furba per andare da S a U, combinando queste due strade troverò la strada più furba tra S e V, dove la particolarità è che l'ultimo, il secondo pezzo è fatto di un arco solo. Allora questa uguaglianza vale se delta S e V è un cammino minimo, questa è l'ipotesi del teorema, conosco il cammino minimo. Allora se delta di S e U è un cammino minimo, questa vale come uguaglianza. Se non fosse un cammino minimo, questa sarà una disuguaglianza, ci va a finire un maggiore, non un uguale. Se U non fosse la scelta più furba e quindi non facesse parte del cammino minimo, questa qui non ci sarebbe un uguale, non ci sarebbe un maggiore. Per cui io usando questa equazione vado alla caccia dell'uguale. Io so che l'equazione col maggiore vale sempre, questa è la normalissima disequazione triangolare, che mi dice che per andare da qui a là, se faccio un passaggio intermedio posso allungare oppure se sono fortunato fanno la stessa lunghezza, non si potrà mai accorciare aggiungendo un punto intermedio. Ecco questa vale anche qua sul grafo e quindi il maggiore uguale vale sempre, l'uguale vale nel caso in cui abbia trovato il minimo o abbia trovato perlomeno un percorso più vicino al minimo. Allora tutti gli algoritmi che cercano i cammini minimi lavorano su questa disuguaglianza qua, dove ciò che c'è a destra, l'ultimo termine è il grafo, i pesi tra i vertici non sono altro che il grafo, gli archi del grafo con i loro pesi, i delta sono l'incognita, ciò che dobbiamo trovare. Sì voi dite ma in realtà l'incognita sarebbe il pi greco, sarebbe il predecessore, vabbè cominciamo a trovare il cammino minimo, la lunghezza e poi da lunghezza troviamo il cammino. Quindi questo ragionamento lo incazzoliamo in una procedura, in una primitiva operativa che chiamiamo di rilassamento. Cos'è il rilassamento? Allora io mi predispongo un vettore che contenga tutte le distanze, lo chiamo d, non lo chiamo delta, perché delta è già il minimo d e invece è solo quello di lavoro, su cui sto lavorando. Quindi questo vettore d mi dà la stima delle distanze minime e ogni volta, e poi consulto il grafo, ogni volta che trovo un modo migliore per raggiungere u, data una certa sorgente che ovviamente supponiamo sempre nota, appena trovo un modo migliore di aggiungere u, lo aggiorno, aggiorno v e aggiornerò anche pi greco che mi dice da dove l'hai trovato questo modo migliore? Passando da quale vertice l'hai trovato? Quindi definisci questa funzione di rilassamento che dice considera un arco UV che abbia un peso W e vai a vedere cosa contiene il tuo vettore delle distanze che hai calcolato finora, distanze minime che hai calcolato finora, possono essere già le ottime e possono non esserle, nel caro peggiore sono distanze talmente sfigate che valgono infinito, se non so niente dico boh la distanza sarà grandissima, quindi un caso iniziale ce l'ho sempre, distanza infinita, le distanze attuali mi dicono che d con v, d con u ha una certa distanza da s, poi vado a considerare un arco, l'arco UV, quindi anzitutto l'arco esiste, mi dice già che u e v sono collegati, vado a vedere dal grafo, mi faccio dare il primo arco tra questi due vertici e questo arco avrà un peso, allora vado a verificare, ma senti, visto che questo arco collega u e v, andiamo a vedere l'esequazione che c'è nell'ipotetico percorso su uv, allora da s fino a u ha una distanza di con u, da s fino a v ha una distanza di con v e andiamo a vedere se c'è un maggiore o un uguale, se c'è un maggiore vuol dire che io non so prima come facessi ad arrivare a v con una certa distanza, ma ne ho trovata una migliore, che è quella di arrivare fino a u, non so come e poi attraversare l'arco uv, qui c'è scritto che se arrivo fino a u da s e poi attraverso uv, allora ho un costo totale minore, guardatelo da destra, rispetto alla strada che conoscevo finora per arrivare fino a v, allora se sono furbo, aggiorno il peso di v dicendo che allora il peso di v adesso ho trovato una distanza per arrivare a v, che sia quella per arrivare a u più l'attraversamento del singolo arco uv e quindi mi ricordo che il modo più furbo per arrivare a v sarà passare da u, allora voi partite con dei pesi esagerati, poi continuate ad applicare questa funzione di rilassamento a tutti gli archi del grafo più e più volte e se vi va male non cambia niente, se vi va bene avete migliorato qualche cosa, quando riapplicando la funzione a tutto il grafo non cambia più nulla in un'interazione completa vuol dire che avete raggiunto i minimi, perché ogni volta che chiamate questa funzione su un arco state o non facendo nulla o aggiornando, migliorandolo un peso, riducendo il valore di D, quindi poi poiché riduco sempre prima o poi raggiungerò il minimo e ho raggiunto il minimo quando questa regola non vale più, non funziona più, non si applica più, ma se non si applica più vuol dire che qua non c'è maggiore ma c'è uguale e se c'è uguale ovunque vuol dire che è il minimo, il termine di prima c'era uguale quando avevo il minimo, quindi i vari algoritmi che adesso vi accendo, non entriamo nel dettaglio perché non li dobbiamo implementare, si basano tutti su questa idea, quindi l'idea qui è la stessa equazione di prima, è un pochino visualizzata. Io conosco già un cammino per arrivare a U, finora conosco un cammino per arrivare a U di peso 9 e conosco già un cammino per arrivare a U di peso 5, io non so come per arrivare a V con 9 che cammino ho fatto, che percorso sto facendo, in realtà mi rendo conto adesso che questa figura è anche sbagliata perché non è detto che il cammino che conosco per arrivare a V con peso 9 passi da U, potrebbe anche non passare da U, quindi non guardate questo pezzo qua di linea. Ho un cammino che da qualche parte non so qual è, ho conosciuto in passato e ce l'ho detto pi greco se voglio andare a vederlo, mi permette di arrivare a V con peso 9 e un altro non so qual è che mi permette di arrivare a U con peso 5, se considero però l'arco UV che ha peso 2, 5 più 2 fa 7, 7 più piccolo di 9, quindi qualunque fosse questo cammino tratteggiato? Buttiamolo via, perché ne ho trovato uno più furbo, quello che arriva fino a U chissà come, come ci arrivava prima sempre con peso 5 e poi da U arriva a V, quindi questo arco qua l'ho messo in grassetto perché entra a far parte del mio grafo dei cammini minimi, albero dei cammini minimi. Poi per il momento può darsi che più avanti ci sia un vertice T con peso 4 e arco 1 e quindi mi spiazza di nuovo questo, me lo sostituisce di nuovo, quindi il predecessore di V lo cambierò molte volte, non è che la prima volta che ne trovo U non mi accontento, itero finché ne trovo ancora, ad esempio qua non trovo più nulla, perché se io avevo già un percorso, non so quale sia, che raggiunge V con peso 6 e ho 5 più 2, allora concludo che non conviene arrivare a V passando da U, che mi darebbe un peso 7, almeno al momento, almeno con la conoscenza che ho sulla raggiungibilità di U, mi conviene tenermi il percorso precedente che non so quale sia, ma aveva peso 6, da S. Ok, quindi, qui sono sempre le solite cose, noi possiamo implementare un algoritmo applicando semplicemente questa regola di rilassamento, inizializziamo tutte le distanze a infinito, tutti i predecessori a sconosciuto e facciamo partire la procedura di rilassamento, la procedura di rilassamento non fa altro che aggiungere, migliorare informazione dove possibile, più volte e quando raggiungo il minimo, in generale la distanza che conosco sarà sempre maggiore uguale alla distanza minima, a un certo punto arriverà a essere uguale, quando è uguale le procedure di rilassamento non funzionano più perché ho raggiunto il minimo, questo è quello che avevamo detto a parole. Allora, su questa idea hanno costruito vari tipi di algoritmi, a seconda che vogliamo la soluzione a una sorgente o a tutte le sorgenti, a seconda che vogliamo considerare gli archi negativi oppure no, i cicli negativi mai, perché non ha senso. E allora ci sono algoritmi diversi che applicano questo principio di rilassamento in modalità diverse, tra cui tre che vi cito perché ci sono nella nostra libreria, sono il primo è chiamato algoritmo di Floyd Warshall, dal nome delle persone che l'hanno proposto, che risolve il problema all pairs short spot, quindi tu lo fai girare e ti calcola tutti i nodi predecessori, adesso qua c'è uno schemino che lo riassume, ma in questo schemino voglio solo rilevare che cos'è questa matrice, questa matrice è il nostro vettore di pi greco, quindi dei predecessori per tutti i punti di partenza possibili, perché negli esempi dei disegnini precedenti avevamo il vettore di partenza, delle distanze partendo da S dove S era fisso, questo algoritmo risolve distanze minime partendo da tutti i possibili nodi, quindi da S, da T, da U, da V e in parallelo in qualche modo, lo risolve in parallelo e quindi lui non ha solamente un vettore delle distanze, un vettore dei predecessori, ma ne ha molti perché dipende dalla radice a cui devo arrivare, ma l'algoritmo in sé è molto semplice, lasciamo perdere queste che sono fatti di inizializzazione, in cui inizializzo le distanze dalla sorgente U alla destinazione via infinito e il predecessore A non conosciuto, ma poi questo è l'algoritmo, sono tre cicli annidati l'uno dentro l'altro in cui a manetta applica il rilassamento, che è poi questo, l'equazione calcola D più W e vado a vedere se è minore del D precedente, se sì lo sostituisco, a manetta alla cieca, qui non c'è un if tra questi forici, tutti i possibili vertici in tutti i possibili modi, ripetuto n volte, perché se lo faccio n volte prima o poi arriverà al minimo, questo nella sua stupidità algoritmica arriva al minimo, ti trova tutti i percorsi minimi, complessità? Manco dirlo, via la terza, numero di vertici al cubo, perché queste operazioni qua delle righe 12, 13, 14, 15 vengono eseguite n volte qua per n per n, se n è il numero di vertici, quindi il numero di vertici alla terza, è una complessità polinomiale, quindi non è esponenziale, non dobbiamo neanche preoccuparci troppo, nel numero di vertici, indipendente dal numero di archi, non ce ne frega niente, qui andiamo a chiedersi se l'arco c'è o non c'è, ma potrebbe essere anche un grafo molto denso con moltissimi archi, la complessità non cambia e questo può essere un vantaggio, perché invece gli altri algoritmi dipendono da quanti archi ho, dipende solamente dal numero di vertici ed è polinomiale, con potenza 3, vabbè pochi ci sono gli esempi di come funziona, ma ve lo risparmio. Ovviamente dentro J.GraftT c'è una classe che si chiama Floyd, Worshaw, Shortest Path, che implementa quell'algoritmo, quindi se abbiamo bisogno di calcolare quando la usiamo, la usiamo quando ci va bene un algoritmo di complessità via il cubo e quando ci serve far lavorare l'algoritmo una volta sola e poi dopo avere tutti i cammini minimi, tutte le coppie possibili, quindi presumiamo che la nostra applicazione poi debba interrogarlo quante volte. Se invece dovessimo interrogarlo poche volte oppure la sorgente, il punto di partenza è uno solo, magari andiamo a vedere algoritmi più semplici, che non mi calcolano in tutti i cammini minimi, ma solamente quelli da una sorgente data, ma abbiano magari una complessità inferiore. Tra cui ce ne sono due, uno è quello chiamato di Bellman-Fort-Moore, questi sono tutti algoritmi che risalgono agli anni 70, quando gli informatici hanno cominciato a studiare un pochino formalmente i vari problemi e tiravano fuori effettivamente questi che sono poi diventati mattoni di tutti gli algoritmi moderni essenzialmente, perché hanno preso un problema che a prima vista sembrava esponenziale, quando prima la parola vi ho detto, devo considerare tutti i possibili cammini, ci ha preso male e poi si hanno visto che semplicemente se ci ragionavi bene trovavi una soluzione polinomiale. Anche questo Bellman-Fort risolve il problema dei cammini minimi single source, quindi definendo solamente un nodo sorgente, verso tutte le destinazioni ovviamente, e ha una complessità pari a v per e, quindi il numero di vertici per numero di archi come complessità. Dipende, se il grafo è molto denso, ha molti archi, ha una densità molto elevata e il numero di archi sappiamo che può essere v al quadrato come ordine di grandezza. Quindi se un grafo ha una densità alta, la complessità di questo signore v per e è circa v al cubo, perché e è circa v al quadrato, se è un grafo completo o quasi completo, che ha tutti gli archi, ha tutti gli vertici. Se invece ho un grafo di densità inferiore, pensate al grafo stradale, un grafo stradale se ogni vertici è un incrocio, in quell'incrocio quante strade convergeranno? 3, 4, 5, 8? Basta! E quindi il numero di archi, quindi il numero di tratti di strada è pari a una costante massima, penso 8, 10, per il numero di vertici. Quindi asintoticamente in un grafo come quello topologico stradale, il numero di archi è proporzionale al numero di vertici, non al loro quadrato. E quindi in questo caso avremo un algoritmo che va come v al quadrato, e allora mi si dà un vantaggio rispetto al caso precedente, mi dà un risultato inferiore, perché mi dà solamente i cammini partendo da un punto di partenza, ma effettivamente è più veloce. invece in un grafo molto denso non conviene, conviene urlare l'altro che comunque la complessità è sempre via al cubo, ma a quel punto mi calcola tutti i cammini, a partire da ogni possibile sorgente. Non entriamo anche qua nel dettaglio, però di nuovo è roba del tipo la funzione di rilassamento applicata più volte dentro dei cicli, in modo diverso, con delle strategie di ricerca diverse. E poi c'è un altro algoritmo ancora, che prende il nome da questo signore che immagino che si chiami, qualcuno sa come si pronuncia in olandese questa parola, perché lui mi sembra che fosse fiammingo, se la pronunciassimo all'inglese sarebbe D'Aistra, ma non so quale sia la pronuncia vera, che è questo signore qua, che si è semplificata ancora un po' la vita dicendo, va bene, l'ho capito che dal punto di vista teorico il problema sono solo i cicli negativi, ma se noi evitassimo anche di avere gli archi negativi, un singolo arco negativo, facciamo l'ipotesi che nel grafo ci siano solo archi positivi, allora l'algoritmo si può ancora semplificare maggiormente e quindi è riuscito a semplificarlo con una implementazione molto più semplice che garantisce comunque di trovare l'ottimo se gli archi sono tutti positivi, che poi nei casi pratici è quello che succede normalmente, quindi ha dato un approccio un pochino più pratico e un po' meno matematico alla soluzione, ma ovviamente si basa anche lui sul rilassamento, quindi queste due righe già le conosciamo, con in più un minimo di furbizia sull'ordine con cui visita i vertici, cioè i due algoritmi precedenti erano dei cicli foranidati che non andavano a vedere i pesi, gli archi, ma semplicemente lavoravano e applicavano a manetta, a ripetizione il codice di rilassamento, invece lui dice sì sì io lo applico, ma lo applico solo quando vale la pena e quindi ha una coda prioritaria in cui si va a mettere in ordine di peso crescente, di distanza crescente i vari vertici che ha già parzialmente scoperto e dice è inutile che io vado a considerare un vertice di peso più alto quando prima non ho risolto, più lontano quando prima non ho risolto quelli più vicino, perché altrimenti trovo un cammino per quello più lontano, poi ne trovo uno migliore per quello più vicino e da lì in avanti è tutto da rifare, invece lui cerca di evitare di rifare, in qualche modo nel momento in cui assegna un peso minimo non lo tocca quasi più, non lo può non toccare più perché altrimenti non troverebbe il minimo, ma lavora molto su questo, qui c'è l'esempio ma non lo seguiamo di nuovo su come lavora, ma se vi interessa la complessità di questo algoritmo se tu la guardi dal punto di vista teorico è una roba tipo V al quadrato, il numero di archi più il quadrato di numero di vertici, in realtà questo quadrato di numero di vertici deriva dalla ricerca del minimo, la ricerca del vertice minimo, del vertice a cui conviene maggiormente in questo momento applicare il rilassamento, anziché prendere uno a caso e quindi fai tante volte la ricerca all'interno di un vettore del minimo, in realtà se non implementi in modo così banale, ma usi una coda prioritaria, che poi è una struttura dati, la prossima che conosceremo perché la useremo per fare le simulazioni, l'operazione di calcolo del minimo la riesci a fare in tempo logaritmico anziché in tempo lineare, quindi un calcolo del minimo anziché metterci V, ci metti semplicemente log V, senza arriverlo a ordinare semplicemente, una stazione ripetuta di minimo ha un costo ammortizzato logaritmico e quindi anziché V al quadrato questo diventa V log V, quindi diventa per un grafo che non sia troppo denso, quindi se è uguale a V al quadrato, di nuovo questa ottimizzazione non serve a un granché, ma se è bassa dell'ordine di V, una costante per V, il grado dei vertici non cresce col numero di vertici, ma rimane più o meno limitato da una costante e implementato bene, la complessità di questo è poco più che V, poco più che lineare, è un V log V, un N log N, non è proprio un N lineare, è un po' di più, ma è il meglio che si riesce a fare, quindi questo algoritmo ha delle ipotesi in più, funziona bene se la densità è ragionevole, quindi il grado è limitato e non troviamo nessun arco negativo, in quel caso va decisamente meglio degli altri, quindi è quello che normalmente si usa di più. Addirittura a volte se uno vuole calcolare tutti i cammini, proprio implementativamente se uno fa un po' di prove a volte gli conviene chiamare tante volte l'algoritmo di Dijkstra con tanti sorgenti diverse, piuttosto che chiamare quello di Floyd-Warshall una volta per tutte, proprio perché se un algoritmo appena più di V e lo chiamo V volte, avrà una complessità complessiva che è un po' più di V quadro, V quadro log V e non V cubo, quindi il Dijkstra ripetuto a volte è più efficiente di una singola chiamata a Floyd-Warshall su graffi di una certa dimensione, ovviamente se si verificano le ipotesi che rendono Dijkstra appetibile, vabbè qui non lo faccio vedere, quindi questa è un po' la tabellina riassuntiva, gli algoritmi di cammino minimo che sono implementati in JGraft-T sono Floyd-Warshall, Bellman-Ford e Dijkstra, Floyd-Warshall è l'unico che mi dà tutte le coppie, perché invece Bellman-Ford e Dijkstra mi danno solamente il single source, devo specificare una sorgente e mi dà tutte le destinazioni, in realtà sia Bellman-Ford che Dijkstra le posso ripetere più volte, infatti il repeater Bellman-Ford e il repeater Dijkstra mi risolvono il problema da tutte le sorgenti, perché semplicemente lo chiamo tante volte, ogni volta partendo una sorgente diversa. E queste mi danno il livello di efficienza assintotica, la complessità assintotica di questi vari algoritmi. Nessuno ovviamente funziona se ci sono dei cicli negativi, in più Dijkstra non funziona neanche se c'è anche solo un arco negativo, mentre invece i primi funzionano in presente di archi negativi. Non dimentichiamoci però che c'è il cugino povero dei cammini minimi che è la visita in ampiezza, che ovviamente funziona nel caso molto particolare che il grafo sia un grafo non pesato. Quindi quello che mi interessa è semplicemente attraversare il numero minimo di archi, perché ogni arco ha lo stesso peso di tutti gli altri. Allora a questo punto la complessità scende da, chiaramente per il single source, da un V log V a un V semplice, sempre nell'ipotesi di densità bassa degli archi. E quindi dal punto di vista algoritmico conviene questo, ma se il grafo non è pesato. se è pesato nella maggior parte dei casi conviene Dijkstra, come algoritmo, come rapidità di esecuzione. E se andiamo a vedere JGraftT, è cosa che farete domani in laboratorio, abbiamo queste tre classi, quando istanziate la classe lei fa girare l'algoritmo e poi vi dà dei metodi per andare a interrogare il risultato. Nelle classi come Dijkstra, in cui il risultato hai già definito la sorgente, hai semplicemente un cammino, gli dai semplicemente, qui manca il parametro, scusate, il punto d'arrivo. Distituisce un oggetto che si chiama GraphPath, andate a vedere nella documentazione, un GraphPath non è altro che una collection di vertici o di archi. Però nella classe Graphs ci sono già i metodi per andare a navigarlo a questo GraphPath, quindi non andate dentro all'oggetto per vedere com'è fatto, andate a vedere dentro Graphs ci sono dei metodi per andare a passare da ogni vertice a quello successivo, iterare su questo GraphPath, è una sorta di lista, è un po' più complicata di una lista perché chi ha implementato questo doveva considerare il grafo orientato, quello non orientato, il multigrafo e quindi la lista dentro è fatta in modo diverso, però concettualmente non è altro che una lista. Nel caso dei problemi all paths shortest path, quindi con tutte le sorgenti possibili, chiaramente il metodo get shortest path ti dà il vertice di partenza e il vertice di arrivo. Qual è il cammino minimo tra I, B oppure con la S plurale, quali sono tutti i cammini minimi a partire da V verso tutti gli altri? In questo caso ti dà una lista di cammini, una struttura un po' complicata, un po' scomoda da usare, ma abbiamo tutto qua. Per il resto l'implementazione, ciò che ci interessa sapere è avere un'idea di cosa succede, di quali sono i casi in cui si possono applicare, quando conviene uno, quando conviene l'altro e poi la libreria fa tutto il resto. Quindi di questo vi lascio divertire in laboratorio, poi magari la settimana prossima andiamo a riprendere i punti che sono un pochino più critici di questi esercizi. Per oggi abbiamo quasi finito in tempo.